Spesso nelle croniche estive, compresa quella dei giorni scorsi, ci capita di sentire di persone che a seguito di una puntura di insetti purtroppo sono vittime di spiacevoli conseguenze, alle volte gravi come uno shock anafilatico. Alla puntura di un insetto, delle famiglie di apidi e vespidi, può conseguire una reazione più o meno estesa. Le reazioni localizzate consistono in un'infiammazione o in una risposta allergica locale dell'area colpita nella puntura e il tutto si risolve in breve tempo ma alle volte si possono scatenare reazioni allergiche che possono estendersi al resto del corpo. La reazione di gran lunga più grave e rischiosa è l'anafilassi che può sfociare nelle forme più gravi anche nello shock anafilattico. Ma come ci si difende da questo rischio ed è possibile anche prevenirlo facendo della prevenzione? Allora intanto bisogna dire che allergici non si nasce ma si diventa. Questo chiaramente per tranquillizzare tutta una categoria specialmente di mamme, di bambini piccoli che quando avvengono, quando sentono notizie di morte per sciogra anafilattico da puntura si preoccupano per la salute dei loro figli e quindi vorrebbero fare chissà che. Cioè se uno non è mai stato punto può stare tranquillo che alla prima puntura non gli può succedere niente di anafilattico perché ci sia una reazione anafilattica deve esserci prima una sensibilizzazione. Quindi dalla seconda puntura in poi che potenzialmente un paziente può avere una reazione anafilattica da puntura. Ci sono dei contromisure che si possono prendere? Allora le prime misure da prendere sono essenzialmente per primo togliere il pungiglione che il pungiglione è il sacco velenifero in cui è contenuto appunto il veleno. Il pungiglione viene rilasciato solo dalle api e quindi solo l'ape rilascia il pungiglione che va rimosso immediatamente eventualmente cercando di non premerlo ma spostandolo lateralmente perché altrimenti premendolo chiaramente si preme il veleno che è contenuto nella sacca e quindi può peggiorare la reazione. Seconda cosa mettere una quantità se possibile abbastanza consistente di ghiaccio nella zona della puntura e anche questo se possibile mettere un laccio a monte della puntura in maniera che il veleno non vada in circolo perché il problema è che trasforma una reazione locale in una reazione generalizzata che poi è quella che determina appunto anche il decesso per il fio canafilattico. Quindi ci sono dei vaccini? Ci si può vaccinare? Esattamente. Ormai da meno 30 anni sono stati messi a punto dei vaccini per l'iposensibilizzanti che quindi diciamo in linea di massima nel 99 e più di casi per cento guariscono il paziente quindi lo desensibilizzano alla puntura. Grazie. 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 Grazie.